E' stato presentato ieri sera a Venezia, nell'ambito della Mossa Internazionale del Cinema, il docufilm Semidei dedicato ai bronzi di Riace. Il documentario, prodotto da Caro degli Esposti a Nicola Serra per Palomar Mideguen, per la regia di Fabio Mollo e Alessandra Cataleta, è stato cofinanziato dal Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità della Regione Calabria e dalla Fondazione Calabria Film Commission, nell'ambito delle attività promosse per il cinquantenario del ritrovamento dei bronzi di Riace. Dire che siamo orgogliosi per questo evento, affermano Giussi Principi, vicepresidente della Regione, Anton Giulio Grande, commissario della Calabria Film Commission, è proprio riduttivo. I bronzi portano la Calabria al Festival di Venezia e con la Regione un messaggio nuovo e positivo della nostra terra, di chi siamo, dove affondano le nostre radici e quale sia il nostro potenziale intrinseco. Con le attività di Bronzi 50 siamo arrivati dove volevamo mostrare le nostre bellezze sui palcoscenici di fama internazionale. La presentazione del docufilm è stata organizzata nell'ambito della sezione Notti Veneziane alla ventesima edizione delle giornate degli autori. L'anteprima di Venezia, affermano Mollo e Alessandra Cataleta, è per noi un bellissimo risultato di un percorso in cui siamo stati supportati da Palomar e sostenuti fortemente dalla Regione Calabria e dalla Calabria Film Commission. Semidei, scritto da Armando Maria Trotta, Giuseppe Smorto, Massimo Razzi e Fabio Mollo, ripercorre mezzo secolo di storia raccontando la vicenda dei due guerrieri trovate nelle acque antistanti Riace nel 1972, dopo circa 2000 anni trascorsi sott'acqua. È fuori dubbio che Venezia rappresenti una grandissima occasione di visibilità, anche in chiave culturale e quindi naturalmente con un ritorno turistico.